Siamo alla cronaca incendio in una vasta area della pineta di Roio alle porte dell'Aquila. L'incendio, eccole qui alcune immagini, ben visibile dalla strada, ha interessato un'ampia porzione a ridosso della pineta. Sul posto si sono recati i mezzi dei vigili del fuoco. Si teme che il forte vento di queste ore possa ampliare le dimensioni dell'incendio, anche se il tempo minaccia pioggia a breve. Questo particolare potrebbe comunque rappresentare un aspetto decisamente confortante. Grazie anche all'ausilio dei Canadair l'incendio è stato circoscritto, ma persistono ancora alcuni piccoli focolai ed una vasta macchia della pineta è andata completamente bruciata.